Omega Constellation Quartz, l'eleganza senza tempo Nel mondo dell'orologeria di lusso, pochi modelli brillano con la stessa intensità del Constellation Quartz. Questo straordinario orologio da polso rappresenta l'unione perfetta tra artigianalità senza compromessi e design senza tempo. Il Constellation Quartz ha una storia ricca e radicata nell'heritage dell'orologeria. Le sue radici risalgono agli anni di gloria dell'orologeria svizzera, quando l'arte dell'orologeria si fonde con la tecnologia avanzata. Il quadrante è spesso abbellito con dettagli eleganti, come indici incastonati di diamanti o motivi ispirati alle costellazioni. Sotto il quadrante, il movimento al quarzo assicura una precisione impeccabile nel segnare il tempo. Questo movimento, alimentato da una batteria, riduce al minimo la necessità di regolazioni frequenti, garantendo che l'orologio sia sempre pronto per accompagnarti in ogni momento della giornata. La collezione Constellation Quartz è costruita con materiali di prima qualità, riflettendo la dedizione del marchio all'eleganza e alla durabilità. Cassa e bracciale in acciaio inossidabile, spesso impreziositi da dettagli in oro, creano una combinazione affascinante di stile e robustezza. I modelli più pregiati possono presentare diamanti taglio brillante incastonati sulla lunetta, aggiungendo un tocco di lusso raffinato. L'artigianalità meticolosa che caratterizza la creazione di ogni Constellation Quartz è un tributo alla tradizione orologera svizzera. Ogni dettaglio, dalla finitura della cassa al montaggio del movimento, è curato con maestria per garantire un risultato finale di qualità impeccabile. Il Constellation Quartz ha attirato l'attenzione non solo degli appassionati di orologi, ma anche di celebrità di fama internazionale. Note personalità del mondo dell'intrattenimento, dello sport e degli affari hanno scelto di indossare con orgoglio un Constellation Quartz, contribuendo a diffondere la sua reputazione di stile senza tempo e sofisticazione. La collezione Constellation Quartz ha anche stabilito record di precisione e affidabilità, rappresentando un pilastro dell'orologeria svizzera. La tecnologia al quarzo utilizzata nei modelli Constellation ha permesso di raggiungere livelli di precisione impensabili in passato, confermando il suo status di capolavoro ingegneristico. Il Constellation Quartz è molto più di un semplice orologio da polso, è un simbolo di eleganza, prestigio e perfezione tecnica. Indossare un Constellation Quartz è come indossare una parte della tradizione orologera svizzera, sottolineando l'amore per l'arte, la precisione e l'eleganza senza tempo.